È bello condividere i momenti così, ci troviamo tutti, che sembrano tutti una grande famiglia quando ci troviamo all'estero. Mi piace vedersi, conoscersi, perché ognuno ha storie diverse, viene da tradizioni diverse. Poi ci si sente tutti, un'unica famiglia quando ci si trova all'estero, è bello passare un po' di tempo insieme. Piacere, siamo super proud. Ciao, ottima prestazione in panchina. Quale non la faccio la cosa? Eliana, ma non, è arrivato sotto la spalla. Ecco, il giocatore in basco, il nostro point guard. E me too! Sto in testo! Buongiorno ragazzi, ottimo!